Uno degli ospiti della seconda serata di Sanremo è Francesco Arca, senese della Civetta, ormai fa parte dello Star System italiano, televisione, cinema, per cui tutto quello che è un bellissimo percorso, che avevi pensato quando? Ma sinceramente è arrivato il percorso, Franco, perché poi la mia idea da piccolo era tutt'altra, era un'altra cosa, era un'altra idea, era quella di seguire un po' le orme paterne, quindi di fare il militare. Poi alla fine è arrivato questo bellissimo viaggio, è iniziato questo viaggio nel mondo, prima dello studio e poi della televisione, poi del cinema, come dicevi giustamente te, adesso siamo arrivati al palco di Sanremo, quindi comunque il viaggio è stato bello e emozionante. Tradotto in un aspetto temporale, quando è iniziato? 20 anni, si può dire, 20 anni fa, è iniziato 20 anni fa e adesso siamo ad una, come ti stavo dicendo, con questa fiction che uscirà il 19 febbraio sul Rai 1, che accompagnerà per otto serate il pubblico, prima serie da protagonista in Rai, prima volta a Sanremo, quindi questa è sicuramente una meta importante, ce ne saranno altre, mi voglio prefissare altri obiettivi, però questo è un obiettivo al quale sono arrivato dopo 20 anni e sono felice di esserci arrivato con questa umiltà e con questa voglia e sempre tenendo la mia siena e le mie radici nel cuore. Ecco Francesco, quale sarà il prossimo checkpoint? Hai detto che questa è già una meta importante, ma ci saranno già altri progetti in futuro? Ma ci sono altri progetti, chiaramente adesso le cose quando si fanno è bello viversele poi, vivere un po' il momento, un po' al carpe diem, quindi ora mi voglio godere questo momento e poi da settimana prossima incomincieremo già a lavorare su un altro progetto. Una bella compagnia poi questa sera, Black Eyed Peas, Albano, Massimo Ranieri, insomma è un'emozione anche importante, dai! È un'emozione incredibile, infatti tra poco salgo sul palco, veramente sarà forte. Mentre raccontavi, l'altra volta l'abbiamo visto alle Iene, il suo intervento, è partito, sono nato a Siena con quel sorriso e quello mi ha colpito molto, ha colpito molti ragazzi che poi hanno anche condiviso sui social la tua storia. Ci credo, perché io poi, siccome l'ho scritto io con la mia mente al coach, quel monologo, io volevo fare un monologo un po' che mi rispecchiasse a pieno e quindi quando una cosa ti rispecchia parti dalle tue radici, parti dalla cosa più importante e quindi quel sono nato a Siena era proprio una cosa che mi viene sempre spontaneo, è la prima cosa che dico perché per me è stato il punto di partenza e sarà il punto che arrivo. Senti Francesco, abbandoniamo Sanremo e parliamo di Siena, due pali non belli? No, no, ritorniamo a Sanremo allora Franco, riparliamo di Sanremo? No, è stato un anno sfortunato, sì, l'anno scorso, ora però siamo entrati nel nuovo anno speriamo che la sorte giri un po' dalla nostra parte. Nel futuro c'hai qualche ambizione contro D'Aiola? No, 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 mi spaventa tantissimo pensare alle figure del capitano del priore, sono figure di una difficoltà estrema quindi è giusto che le devono fare chi è veramente capace e chi sente quella vocazione. Io no, a me piace essere un contrataiolo e mi basta quello. Senti, quando ti intervistano e dici sono nato a Siena, sono di Siena, quali sono le considerazioni? Io penso che negli occhi sempre delle persone c'è sempre un grande rispetto quando dici sono nato a Siena perché è una città, non lo scopro certamente io, di un'importanza storica incredibile, ma è evocativa sono veramente delle radici ben piantate, quindi è una cosa che un po' tutti noi toscani ce l'abbiamo ma in particolare noi senesi andiamo fieri del nostro vissuto, fieri del posto dove siamo nati è bello così. È bella bandiera. Esatto, non è facile Francesco poi trovare i senesi che hanno avuto un successo anche fuori le mura e quindi siccome abbiamo vent'anni, qual è il consiglio che vuoi darci alla nostra generazione non solo senese ma anche in generale? Ma crederci, non arrendersi, io sono più le porte in faccia che ho preso di quelle che si sono aperte devo essere sincero, sono stati più i no, poi adesso si parla sempre delle cose che è del punto di arrivo però c'è un percorso da fare, ci vuole umiltà, ci vuole tanta umiltà, tanta generosità e ci devi sempre credere. Step by step come dicevi prima. Assolutamente. Senti, ti consegniamo questo piccolo... Ah grazie. Allora lo devi aprire perché... Adesso? Eh sì sì. Adesso. Questa la porti con te. Per me che sono uno sportivo questa è perfetta, me la porto sul palco, ogni tanto do un gotto. Un gotto, bravo Francesco. Poi è ritornato nelle radici e poi ovviamente... Cantucci della fabbrica del Panfort. Industria Panfort di Siena, grazie a te di essere stato con noi, vai a cambiarti perché sennò ritardi e poi... Grazie mille e tanti saluti alla famiglia. 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 Grazie mille e tanti saluti alla famiglia.